Sì, pronto? Eh, in teoria è la seconda di mia sorella, ma... Se è barco, se è barco a te che chiama, sicuro? Chiama a casa? È geloso che sta giocando con te? Ma quanti? Io andrei a... Ma proviamo a farm Sai che bello pieno, eh? C'è qualcuno? È guasciata Ma sono? Ma che arrivo? È morto una raga Dobbiamo già un capi al favore Grazie Ma sono da sola? È mancato un altro Eh, vi salvo io, ca... Allora... Sì, pronto? Eh, in teoria è la seconda di mia sorella, ma... Se è barco, se è barco a te che chiama, sicuro? Chiama a casa? È geloso che sta giocando con te Ragazzi, l'ho letteralmente distrutto Io ho fatto doppio HS più triplo body Ha le lacrime in corpo, sto tizio Body? Morto? HS? Doppio HS di nuovo? Mi ha lagerato da dietro Mi ha lagerato Allora, John, se vuoi un medico, guarda Ok, sicuro Stai, me... Stasò non la sola con la sua prima Ma sono morto Ti prova raga ma non fa sicuro niente Ma sono morto No no ti prego fra ma perché fai così porca Allora Sono solo player Ah magari Allora ragazzi Sono un bot player ma da fai Oh god Yo brother everything good Ah Dio brother everything good Oddio questo avevi i pesci Che c***o Ragazzi Vabbè ma quanti sono ragazzi Dio 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 Se vado qua mi rompete le scatole no vero Bravi ragazzi Ma è una cassa ma che siamo 14 Dio 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 Tutto posto fra Le place si ci danno ragazzi Everything good Guarda questo è la roba che c'ha Avevo indovinato che era la cappa mitico Ormai il suo non lo riconosco troppo 12 razzi grazie 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 Sto pensando se prendere la tua amica O non la cappa Ok 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 Sto contro un team vintero rosico Ok non solo un team vintero perfetto Devo ammazzare questi qua Viva la natura ragazzi Se li ammazzi tutti fai venti più Se li ammazzo tutti faccio venti Ah lo so che faccio venti bomber ma non riuscirò a mortare tutti Oh What No Ho fatto un lil barca classic Non fa niente Ok questo qua devo ammassarlo subito perchè mi rompe il c***o con il replace Questo non devo amassarlo Ok ok rip 20 bombe però grazie storo e si porta a casa ragazzi